Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi, curiosando in edicola, mi sono imbattuto in questi pacchetti del gioco di carte Pokémon. Abbiamo qui Furio e Volanti, che è un'espansione di 4-5 anni fa. Abbiamo un pacchetto di tuoni perduti, Sole e Luna, molto più recente. Abbiamo gioco di squadra, sempre di Sole e Luna. E due pacchi di Sole e Luna Ultra Prisma. Io sono curiosissimo di vedere cosa trovo in Furio e Volanti. Magari un bel Deoxys. Che dire, andiamo a spacchettare? Bene ragazzi miei, qui abbiamo i nostri 5 pacchettini e io voglio aprire subito Furio e Volanti. Un'espansione bella vecchiotta, infatti quando l'ho vista in edicola ho dovuto prendere per forza. Sicuramente qualche amasso di magazzino. Però, magari vediamo una bella bomba subito. Allora, non conosco il trick. Ok, espansione bella vecchiotta. Tanto vi regalo il codice. Per chi li vuoi giocare a Pokémon Online. Abbiamo un bel dratini. Cascun. Auluccia. Wingull. Pinkai. Rara. Bannet, molto carino. Rara Reverse. Vedete che carino Bannet. Molto molto carino. Poi c'è vicino a Madallo, quindi. Un'altra rara. Klefki. Dai, non abbiamo trovato niente di particolarmente figo, però... Alla fine durare dentro un pacchetto di una Reverse, mica male. Ligame mentale con Gallade. Campo aereo. E Ninjask. Non comune. Non male sto pacchettino, molto carino. Passiamo con... Gioco di squadra. Questa è anche un'espansione che mi piace molto, ragazzi. Abbiamo le carte alleato. Le primissime carte alleato. Codicino per voi. Fatene buon uso. Psyduck. Vulpix. Pawn Yard. Jared di Alola. Monkey. Jinx. Non comune. Reverse. Molto carino. E la rara è uno. Mac di Alola. Questa carta mi perseguita, ragazzi. Mi perseguita. Mamma mia. Energia Erba. Tauros non comune. Torra Cat non comune. E Kabuto non comune. Andiamo con tuoni perduti. Questo è il primissimo pacchetto di tuoni perduti che apro, ragazzi. Codicino per voi. Mincada. Chinchou. Mare. Mare. Snubbull. Hopdip. Reverse. Comune. E la rara è un Wigglytuff. Poi abbiamo. Energia Buio. Quilava non comune. Girafari non comune. E Karbik non comune. Andiamo con sole l'una ultra prisma. Vediamo il quale è lo stato di buono, ragazzi. Codicino per voi. E' un codicino per voi. Snisal. Di Kikung. Carnivan. Glemiao. Ritur, Pulpix di Alola, carinissimo, guardate, con un Reverse, e la Rarion, Aranquanid, un bruttino, un bruttino, e nel suo buio, Lilia, Magnetor, Blocco Amici, e basta. Ultimo pacchetto, speriamo di dare una bella Full Art, una bella GX, per chiudere in bellezza questo spacchettamento. Koji. Snover, Markrow, Gible, Two Fighter, Stanky, Sheldon non comune Reverse, molto carino, e la Rarion, Gaccio, bella, bella carta, mi piace molto, molto molto carino. Energia Fulletto, Camilla, Cosmoan non comune, e un Bronzo anche non comune. Bene ragazzi miei, anche questo spacchettamento è andato, abbiamo trovato molte carte rare, anche Reverse, abbiamo trovato il Mac di Alola che mi perseguito ormai da mesi, abbiamo trovato un bel garcio raro, questo mi mancava anche, però è mancata la ciliegina sulla torta, è mancata una bella GX, una bella carta alleato, però ci rifaremo nei prossimi video. Ragazzi miei, se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e cliccate sulla campanellina per restare sempre aggiornati. Bene ragazzi, dalla L'Antena del Nerd è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!